Sì, sono zanchi miei Fuck shit! Sì, vai T90! Cioè, tipo 90 Nooo, mi sto spaccando i cingoli, mi sono rotto tutti i cingoli! Ah! Eh, intanto li posso riparare! Mi sta trainando lui! Nooo! Operatività dei cingoli! Particiamo! Grazie! Le parti alle aria hanno conquistato la zona! Le parti alle aria hanno conquistato la zona! Inania! Grazie a tutti.